Vediamo gli ultimi elementi di questa carrellata dei componenti di Bootstrap, in particolare un elemento molto utile è la navbar. La navbar è praticamente una barra di navigazione che tipicamente viene messa in alto in un sito, che presenta oltre al contenuto un logo, ti potete contenere un logo, e poi dopo le diverse pagine del sito, eventualmente anche in drop down, per appunto permettere una navigazione del sito, la barra di navigazione. E' un componente leggermente particolare, in quanto abbiamo un tag nav che è esterno a tutto, esterno anche al container fluido, che poi contiene il resto della navbar, possiamo avere poi un class header, che rappresenta il logo, l'intestazione della navbar, e poi inizia una lista puntata, una lista senza ordine, dove compaiono i vari elementi della pagina. Alcuni di questi elementi possono essere poi associati alla classe drop down, per farli comparire e scomparire all'interno della pagina. Anche in questo caso possiamo fare un copia e incolla e vedere l'esempio. In questo caso compare la mia barra di navigazione con anche il pulsante di drop down per visualizzare i vari elementi. Qui se andate su il sito, quello che ho indicato, da cui ho preso le lezioni, quindi questo www3school, nella navigation bar trovate chiaramente molti più esempi, ad esempio l'inverted navigation bar, che automaticamente modifica i colori per far risaltare meglio la barra di navigazione. Una barra di navigazione allineata a destra, in alcuni casi, la possibilità chiaramente di inserire pulsanti o form, che le vedremo tra un secondo, all'interno della barra di navigazione. Quindi in generale io vi consiglio di tenere i lucidi che ho preparato e i video come una prima linea guida su come orientarsi nella documentazione, ma poi chiaramente trovate molti più esempi e molte più cose nella documentazione online di eBoodstrap. L'ultimo elemento, perché è molto importante, che vi volevo far vedere è questo delle forme. Le forme, le forme appunto consentono di organizzare dei campi di inserimento e ricevono delle proprietà automaticamente, delle proprietà da Bootstrap. In particolare le forme vengono incorniciate, devono essere messe dentro a un container fluido, tipicamente sono sempre incorniciate da un div class form group e spesso, come spesso succede, sono sempre accopiate in modo da avere una label e poi l'input type text o in questo caso email o password per quanto riguarda i vari elementi. In questo caso è molto semplice, ricevono automaticamente delle forme e possono essere utilizzate. Anche in questo caso potete guardare tutti i vari aspetti direttamente sul sito, come ad esempio le form verticali, oppure le inline form, oppure, questo forse è l'esempio che ho preso, horizontal form e quant'altro. È molto conveniente spesso, come ad esempio viene fatto in questo caso, organizzare le forme all'interno di una griglia, per poter proprio incasellare al meglio i vari elementi, come ad esempio in questo caso, dove appunto vengono creati i vari elementi. Vediamo giusto anche in questo caso un esempio, prendiamone uno semplice. Mettiamoci il container fluido Ok, e qui compare la mia form dove posso poi indicare i vari aspetti, i vari campi. Quindi, in generale, questa carrellata di componenti e di idee di bootstrap rappresenta, diciamo, una prima introduzione a come funzionano e quali sono gli elementi. Potete trovare sicuramente più informazioni online, in particolare ci sono molti esempi in questo tutorial da cui ho preso anche il materiale, e soprattutto quello che vedremo nelle prossime lezioni è il come utilizzare questi componenti per creare pagine complesse. Quindi cercheremo di fare esercizi più complessi per far vedere meglio le potenzialità di bootstrap. Grazie. Grazie.